Ciao a tutti e bentornati sul canale, questo video come avete letto dal titolo sarà incentrato solo ed esclusivamente sulle polveri Hourglass sia sulle palette appena uscite che le polveri ambient in gamma permanente perché ho deciso di fare questo video? perché sono una fan delle palette di Hourglass che escono praticamente ogni anno, più o meno verso ottobre e sono delle palette, questa è quella dell'anno scorso che si chiama Unlocked che al loro interno hanno sei tipi di polveri diverse di solito ci sono sempre due ambient lighting powder, quindi due ciprie, un illuminante, un bronzer e due blush questa è quella dell'anno scorso, l'Unlocked, che mi è piaciuta tantissimo e come potete vedere io ho anche consumato questo non c'è più, praticamente il bronzer non ha più la bombatura ma è piatto quindi siamo in dirittura delivo anche con quella e quest'anno ho acquistato, visto che ho amato e utilizzato tantissimo l'Unlocked, la nuova uscita Ghost questa è la palette di sei polveri uscita appunto di recente la trovate ancora sia sul sito di Sephora che su Cast Beauty su tutti i siti che rivendono Hourglass che spediscono in Italia la trovate è uscita in concomitanza con questa anche una palette di quattro blush io non amo molto i blush, amo più le ciprie, le ambient, quindi non amo particolarmente i blush e quella l'ho schippata, tanto ne ho ancora due qui e due qui e sono quattro possiedo però anche le ambient in full size, ne possiedo solo una che poi è quella che mi piace di più e vi spiegherò bene a cosa serve e come utilizzarla che è la Dim Light, quindi questo è il pack delle full size perché ho deciso di fare questo video ho deciso di fare questo video perché il prezzo di ogni palette è di 79 euro quindi un prezzo abbastanza alto per sei polveri da 1.4 grammi ciascuno e secondo me è un prezzo che viene giustificato se si capisce che cosa c'è dentro cioè se si capisce che cosa si compra e quindi si ha un'idea di quello che poi noi andremo ad utilizzare altrimenti per due blush, un bronzer, un illuminante, così così e due ciprie uno dice vabbè ci sono altre palette viso che costano molto meno e che fanno praticamente la stessa cosa e posso essere d'accordo se non è però il tipo di polvere che voi state ricercando altrimenti per me, ve lo dico già, è un prezzo giustificato giustificato perché io la uso tantissimo sono delle palette comodissime da portare in viaggio come vedete io ho l'unlocked, quella dell'anno scorso l'ho praticamente finita per quanto riguarda la cipria livellata per quanto riguarda il bronzer e poi ho usato di conseguenza tutto il resto perché se decido di portarmi via solo una palette va da sé che poi utilizzo l'illuminante che c'è dentro, il blush eccetera conoscevo già le polveri e avendo usato e amato l'unlocked non ho avuto dubbi nell'acquistare la ghost tutto il makeup lo vedrete fra due giorni nel video che pubblicherò dove appunto ho utilizzato questa qui insieme ad altri prodotti makeup nuovi mi avevo chiesto se appunto volevate vedere una review con applicazione o un get ready with me dettagliato quindi ho fatto sia uno che l'altro nello specifico parleremo dell'agosto come vi dicevo ma facciamo una premessa e cerco di farvi capire che cosa sono queste benedette ambient powder allora queste polveri di hourglass queste ciprie ambient sono in totale in gamma permanente 6 nelle palette trovate nell'agosto una in gamma permanente l'altra no ogni tanto appunto nelle palette inseriscono dei dei prodotti delle polveri che poi sia anche per quanto riguarda il bronzer quindi un po' non solo per le ciprie ma in generale tutti i prodotti alcuni prodotti che trovate lì dentro non sono poi presenti in gamma permanente purtroppo quindi se vi piacciono non potete ricomprare la full size le ambient sono 6 vi dicevo la grammatura per ogni per ogni polvere è di 10 grammi per un prezzo di 52 euro è un prezzo anche qui per una cipria molto alto in realtà le ciprie queste dim light ve l'ho già detto comunque queste dim light sono molto molto sottili morbide piacevoli proprio anche da da toccare da sentire cioè io l'ho lavorata un attimo sui polpastrelli della mano e non ho più prodotto perché proprio è una polvere molto sottile che utilizza una particolare tecnologia che è una tecnologia fotoluminescente perché ogni palette che ha un nome diverso ricrea sulla nostra pelle un tipo di effetto luce quindi ad ognuno di noi può corrispondere l'effetto luce che preferiamo io nel mio caso preferisco la dim light che letteralmente vuol proprio dire luce fuscata che va quindi ad avere anche un'azione levigante minimizzatore di pori è perfetta anche per il contorno occhi l'unica cosa che vi dico subito è che la tonalità è un beige quindi se siete come colore nella fascia dei light a salire va benissimo se siete un fair light quindi avete una pelle molto chiara molto molto chiara state alla larga perché questa praticamente vi potrebbe fare quasi da bronzer quindi se siete appunto dai light come colorazione in su va benissimo ogni come vi dicevo quindi polvere va a ricreare un effetto di luce poi guarderemo anche quelle che hanno inserito nella ghost quello che però ci tengo a farvi capire meglio è che nessun ambient viene formulata per essere una polvere matte per avere quindi un finish opaco se voi state cercando una cipria dal finish matte avete una pelle molto grassa non dovete acquistare nessun ambient dovete se volete rimanere in casa hourglass acquistare la mineral veil che è quella cipria in polvere libera appunto che ha un finish matte e più fissante secondo me queste polveri sono perfette 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 per chi ha una pelle secca per chi ha una pelle mista come la mia perché adesso la domanda vi può venire spontanea visto che tu hai una pelle mista lo sappiamo perché ami queste polveri chi ha una pelle mista come la mia le troverà perfette per l'autunno inverno io nel periodo primavera estate non mi passa minimamente per la testa di utilizzare la dim light no non mi passa proprio perché rifletto sebo e lucio e da sola ma in un in un contesto appunto più invernale con queste giornate grigie dove non produco così tanto sebo perché lo riesco a tenere a bada visto che non ci sono 500 gradi le polveri ambient mi piacciono perché mi ricreano proprio questo effetto luminoso io adesso sono sotto una luce artificiale ma alla luce del sole sono ancora più belle è ovvio che sono delle polveri cioè che io so che quando applico la dim light o un'altra delle polveri presenti nelle palettes so già che quel giorno magari mi dovrò guardare un po' più spesso so che non avrò la performance di una cipria matte o di una cipria minimizzatore di pori proprio tipo la peach perfect di Too Faced o qualsiasi altra cipria so pago lo scotto ne sono consapevole che magari invece di riguardarmi a fine giornata una volta mi ci sarà riguardata due io poi imborso sempre il mio studio fix fondotinta in polvere di mac e quindi mi ritocco velocemente ma allo stesso tempo è uno scotto che pago perché l'effetto sulla pelle io ho utilizzato solo la palette ghost mi piace un sacco questo effetto luminoso mi piace quindi se avete una pelle misto grassa potete fare come me se avete una pelle da normale a secca sono perfette meravigliose ma soprattutto per una pelle matura infatti loro puntano molto anche sull'aspetto dell'ambient come polvere adatta ad una pelle matura e io mi permetto di aggiungere anche per una pelle grigia spenta per una pelle un po' fuori forma io so che dopo questo mio video mi mamma si prenderà una delle mie palette ma io non gliela darò quindi come vi dicevo questo è un po' cosa sono appunto questi ambient e molto spesso mi è capitato di ricevere anche alcuni direct su instagram dove mi si chiedeva ma secondo te per me che una pelle può andar bene questa cipria è una pelle mista come la tua può andar bene sì e no deve piacervi l'effetto luminoso che non è glow quindi non è lucido ma è luminoso vi deve piacere questo genere di finish quindi sì la potete utilizzare vi può piacere però non la dovete andare a sentire o a guardare o ad acquistare sulla fiducia perché a me piace o a me come altre persone può piacere se non avete capito a cosa serve quindi voi dovete partire proprio dal presupposto che le ambient sono delle polveri luminose ricreano la luce a seconda appunto del tipo di polvere che scegliete e se state cercando una cipria una finish proprio opacizzante o qualcosa di setting molto strong cambete prodotto molto spesso secondo me non piacciono queste polveri perché non vengono capite o non vengono acquistate con questo intento quindi si pensa di acquistare la classica cipria in realtà no ci si trova con una cosa che non ci piace e di conseguenza non utilizziamo dato che non costano pochissimo è giusto magari fare un acquisto più mirato veniamo adesso alla comparazione fra palette o polvere singola allora come vi dicevo abbiamo 52 euro di prezzo di listino per 10 grammi di prodotto mentre qui abbiamo un prezzo di 79 per 6 cialde da 1.4 grammi ora io non ero bravissima in matematica ma mi viene un attimo il calcolo rapido che la somma di queste 6 cialde non arriva alla misura della cialda full size quindi mancheranno boh saranno 9 qualcosa insomma non arriviamo alla stessa quantità ma abbiamo la possibilità di provare 6 polveri diverse e non solo ciprie di provare appunto tutto il mondo ambient quindi abbiamo in questa palette dim light che è presente in gamma permanente poi abbiamo diffuse light che è questa centrale che quindi va a ricreare l'effetto della luce diffusa quindi quella luce che vi vi avvolge proprio tutti i contorni del viso a 360 gradi è un tipo di luce più delicato che ammorbidisce proprio i contorni del viso vi dico che non è tra le mie preferite perché è una polvere che non amo molto preferisco la dim light preferisco la luce offuscata preferisco questo genere di effetto quindi questa è un po' troppo troppo luminosa per i miei gusti poi abbiamo all'interno un illuminante questo è iridescent strobe light quindi andiamo a ricreare un effetto luminoso che potete notare in questa zona sopra lo zigomo un effetto strobe ma delicato nessun illuminante nemmeno quello presente nella vecchia unlocked è un illuminante molto molto strong cioè non ci avviciniamo ai Mary Lou di The Balm ai vari opal di Becca no abbiamo proprio un illuminante sempre molto più delicato poi abbiamo il bronzer che ho utilizzato invece per fare contouring e per scaldare tutto il viso che si chiama bronze light e poi due blush io amo questo che fa parte un po' delle mie tonalità di cromatiche preferite per quanto riguarda appunto il blush questo è iridescent rosa e poi sublime blush è un po' più delicato meno luminoso più rosato io invece preferisco qualcosa di un po' più rosso terracotta quindi ovviamente preferisco questo nella vecchia unlocked che come potete vedere mi fa anche un po' senso tutta sporca avevamo invece un'altra cipria che mi piace moltissimo che è la soft light avevamo poi la filter light questa è in gamma permanente la filter light che proprio va a ricreare l'effetto filtro che mettiamo pure su instagram e questa mi piace molto per il contorno occhi la soft light io l'ho utilizzata ovunque proprio come cipria all over la oddio faccio confusione la filter light invece appunto come zona del contorno occhi la preferisco la preferisco anche alla polvere che c'è qui che è la diffuse light come vedete sono proprio anche diverse le tonalità e poi avevamo un bronzer che ha da morire però questo non è diventato il golden bronze light che non c'è in in gamma permanente un illuminante che preferisco all'illuminante strobe light che troviamo qui nella ghost e l'illuminante è il metallic strobe powder champagne strobe light questo è un po' più rosato come vedete questo era proprio un più champagne e poi due blush come vi dicevo che ho utilizzato insieme mettendole proprio vicine a modi comparazione ci accorgiamo già da sole che l'agost di quest'anno si rivolge a un pubblico con tonalità più selettive rispetto all'unlocked dell'anno scorso perché se questa palette poteva essere utilizzata da incarnati light molto chiari chiari medi e anche scuri volendo perché comunque il bronzo era un po' più scuro i blush avevano delle tonalità più calde l'illuminante era più dorato l'agost no l'agost è una palette secondo me che va benissimo per tonalità chiare molto chiare fino a chiare già una pelle light medium quindi un tono da chiaro a medio comunque una tonalità calda e una pelle con un sottotono più giallo più caldo proprio anche una pelle olivastra non la potrà apprezzare nella sua totalità ve le faccio rivedere è palese quindi purtroppo penso che sia stata una scelta un po' molto selettiva molto selettiva perché appunto non già chi non ama questi sottotoni rosati non la può utilizzare io la utilizzo e a me piace molto preferisco se cioè che dovessi proprio scegliere venisse hourglass da me a dirmi Federica dobbiamo fare una dobbiamo tirarne fuori una quale preferisci l'unlocked sicuramente la trovo più inclusiva la trovo più adattabile più a 360 gradi cioè questa la potete utilizzare in tutte le stagioni io in estate questa non la posso utilizzare e quindi se avete una tonalità di pelle chiara molto chiara andate sul sicuro già se avete un incarnato medio valutate bene magari andatela a vedere dal vivo se non riuscite appunto con tutte le review che ci sono però ecco l'unica pecca che posso che posso dare poi io sicuramente le ricomprerei tutte e due la ricomprerò anche l'anno prossimo quando uscirà se ne faranno uscire una metà anno ricomprerei anche quella perché a me le polveri hourglass piacciono tanto le trovo comodissime per viaggiare io questa me la sono portata da tutte le parti e durante l'anno e ah non ve l'ho detto lo specchio è bellissimo cioè lo specchio potete utilizzarlo anche proprio come specchio da tutti i giorni da make up perché riuscite a truccarvi benissimo quindi per me è una review assolutamente positiva e positiva per tutti appunto tutte le spiegazioni che vi ho dato nel corso del video giustifico il prezzo sì lo giustifico perché comunque non mi interessa di non avere che lo scarto sia di un grammo e costi comunque di più perché ovviamente paragonata questa ha un prezzo molto più alto se consideriamo appunto che non abbiamo neanche tutta la grammatura di una full size non mi interessa o se tonalità diverse è proprio un concetto diverso se voglio la polvere da utilizzare a casa la compro in full size se voglio una palette per provare per conoscere le polveri per viaggiare per avere comunque delle colorazioni che non voglio avere in full size perché se no dovrei spendere un patrimonio allora la palette è una scelta azzeccata quindi niente io le ricomprerei tutte le comprerò tutte bene io spero di essere stata chiara di avervi fatto capire qualcosina di avervi comunque aiutato se eravate in dubbio se acquistarla o non acquistarla o se eravate in dubbio sul fatto che fosse il prodotto adatto a voi vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video che sarà il get ready with me con tutti i prodotti che ci sono sulla mia faccia grazie a tutti grazie a tutti